Papa Francesco, il saluto del Consiglio. Sport, i comuni negli Stati Generali. I lavori nelle commissioni. In settimana si è discusso di fusione di comuni e comunità montane in prima commissione, dell'ospedale Gradenigo in quarta e di Parchi in quinta. La giunta ha svolto un'informativa sul piano paesaggistico alle commissioni seconda e quinta e la seconda ha inoltre svolto un'audizione sui problemi dell'editoria locale. In terza, infine, si è discusso di risparmio energetico. In copertina. Il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e numerosi consiglieri hanno partecipato in piazza Vittorio Veneto a Torino alla messa celebrata da Papa Francesco. Nel pomeriggio, all'happening dei giovani, organizzato dalla pastorale giovanile della diocesi di Torino, tra i 50.000 ragazzi che hanno accolto Santo Padre era presente anche una delegazione della consulta regionale dei giovani. Comuni capoluoghi di provincia e comuni olimpici sono entrati a far parte del Consiglio degli Stati Generali dello Sport, organismo dell'assemblea presieduta da Mauro Laus. Sono stati così inseriti Alessandri, Asti, Bardonecchia, Biella, Cesana Torinese, Chiomonte, Clavier, Cuneo, Novara, Pinerolo, Pragelato, Prali, Saus e Dulx, Sestrier, Torino, Torrepellice, Verbania e Vercelli. Altri comuni potranno presentare richiesta entro il 10 luglio 2015. Requisiti e modalità sulla pagina istituzionale degli Stati Generali del sito dell'assemblea. In prima commissione si è discusso di fusione di comuni e del superamento delle comunità montane. In seconda si è svolta un'audizione con i rappresentanti del settore dell'editoria e dell'emittenza radio televisiva locale e in congiunta con l'ambiente l'informativa dell'assessore sul piano paesaggistico regionale. In quinta inoltre si è concluso l'esame della nuova legge sui parchi, mentre la terza ha espresso il parere sul programma regionale di cofinanziamento per l'efficienza energetica. La sanità, infine, ha continuato l'esame del provvedimento sull'ospedale Gradenigo di Torino.